il tuo sangue prezioso lavami interamente con il tuo sangue rinnova il mio cuore ho bisogno di questa nuova unzione ho bisogno di l'unzione del Santo in order to fulfill God's plan per poter realizzare il piano di Dio grazie perché vi dai la forza di stare e finanziare le tempeste nel nome di Gesù c'è una donna che sente un dolore il Signore ti guarirà in Jesus' name c'è una signora che ha un problema alla pancia che scende giù lascia che io veda la tua mano vieni avanti hallelujah c'è qualcuno che ha un problema dietro il collo con i nervi in the name of Jesus in the name of Jesus stay and start to worship God praise God the choir and they must start to worship God gli altri possono adorare il Signore invitiamo la corale a conducere in un cantico di adorazione in the name of Jesus in the name of Jesus in Jesus' name let the healing virtual power flow through her let the power of the Holy Spirit flow through her in Jesus' name hallelujah there is there is there is somebody your womb has a kind of a block in the right hand side and the left hand side both sides you have a block because of this you can't release your babies you have a flesh grown in the uterus in the left hand the right both sides operation here Gesù ti opererà qui the lady who has the problem in this uterus e questa persona che ha questo problema I don't know that you know that but you don't have babies your problem is you don't have babies o anche se tu non sai che questo è il problema ma non puoi concepire let me see you lascia che io vedo la tua mano come forward vieni che preghiamo per te come you also anche lei keep the hand upon both hallelujah in Jesus name in the name of Jesus Father we burn the spirit of all kinds even against their wombs in Jesus name spirit of the Lord is coming upon you spirit of the Lord is coming upon you you will receive babies not a baby to work potrai partoriere pray for help this is the one who has that problem the Lord is coming upon you in Jesus name in the name of Jesus Father in the name of Jesus of us we need people these loans and grains of this parable to be totally here in Jesus present's name in Jesus present's name hallelujah glory be to God in the name of Jesus there is somebody in the right ear you have a block in the right ear come forward in Jesus process name Father in the name of Jesus Jesus in the name of Jesus we do we come on do we still healing in Jesus name hallelujah hallelujah Grazie a tutti.